Pandemia, recessione economica, quali sono i settori da incentivare? Innanzitutto partiamo dal turismo, che è uno dei settori che ha risentito maggiormente della crisi. Purtroppo la pandemia non ce la siamo ancora lasciata alle spalle, quindi dobbiamo senz'altro sostenere. Lo faremo con tutta una serie di interventi, ovviamente di carattere promozionale, formativo, informativo, ma anche con sostegni concreti attraverso voucher diretti alle imprese di questo settore. Guardiamo all'innovazione, alla digitalizzazione, ormai non si può più fare a meno di crescere da questo punto di vista, quindi un ente come la Camera di Commercio deve sostenere, affiancare le imprese nella crescita della digitalizzazione, lo faremo in particolare con i servizi che svolgiamo attraverso il nostro punto di impresa digitale. Guardiamo l'internazionalizzazione perché dobbiamo pensare appunto a rinunciare la competitività di questa regione e questo territorio, dobbiamo per forza guardare ai mercati esteri, organizzeremo tutte quelle iniziative compatibili con le limitazioni, accompagnando e favorendo la penetrazione delle imprese più strutturate nei mercati internazionali. Anche per le internazionalizzazioni ci saranno voucher diretti alle piccole e medie imprese. Turismo Export, quanto pensate di investire? Sono quest'anno 4 milioni di euro che per un bilancio di una Camera di Commercio è un impegno sicuramente significativo, però questo a testimonianza della volontà di questo ente e degli organi che lo rappresentano di investire sul territorio anche con uno sforzo straordinario nel proprio bilancio.